di aver accettato una sfida forse già più di dieci anni fa che aveva un carattere apparentemente politico, anzi sostanzialmente politico, ma in una considerazione che mi sembra in tempi di tale decadenza e confusione giusto ribadire, cioè che la parola politica è la parola che esprime la condizione più alta dell'uomo, non la più bassa. E quindi quando qualcuno vuol dire che una cosa è buona dice che non è un fatto positivo. E questa è una delle prime forme di corruzione del pensiero, perché la politica è tutto quello che l'uomo fa, e naturalmente quando lo fa per il pubblico, non per sé, nei palazzi veneziani la scritta che indica il rapporto fra ciò che di tutti e ciò che di alcuni è non nobis domine, non nobis, e sono quei palazzi che tutti vediamo e che sono tutti nostri, anche se ciò che è dentro è di quello che l'ha voluta e l'ha voluto in quel modo. E quindi iniziò con un gruppetto di giovani fascinorosi che pensavano di vincere le elezioni e in una notte di tumulti mi fecero arrivare a Piazza Armerina con le luci artificiali per vedere le condizioni dei mosaici che avevano fatto inorridire molti dei visitatori rispetto alle loro condizioni, alle erbacce. Effettivamente la cosa doveva restare scandalo e determinò poi l'arrivo anche di un potentissimo all'epoca comandante del nucleo tutelare patrimonio artistico dei carabinieri generale Conforti che per essere così bravo fu infatti arrestato perché aveva recuperato la mandibola, la reliquia di Sant'Antonio attraverso i rapporti con un mafioso del nord tra l'altro e per questo suo gesto utile la stanno avversando. Per cui in Italia tutto funziona a rovescio per molti punti di vista ma scaduta sulla funzione di capo del nucleo tutelare dei carabinieri è riabilitato, diventato generale, al limitare della pensione fu chiamato per rendersi conto del funzionamento della villa rispetto alla sua gestione e a un'eventuale intrusione della mafia che è sempre presente in Sicilia, anche soprattutto quando non c'è, per la biglietteria e per tutto il resto. Come commissario poliziesco non fece moltissimo e io invece arrivai come commissario artistico sempre in questa idea politica e infatti alla luce di una prospettiva di rinascita della villa la lista che aveva chiesto il mio arrivo vinse le elezioni e cercarono di incastrarmi in un ruolo di assessore che io rifiutai e così nacque lentamente con i suoi predecessori l'ipotesi di una super consulenza che era praticamente non efficiente alla luce di un progetto di recupero della villa voluto l'estudo del restauro e particolare dal professor Meli. Intorno a quel progetto e intorno al mio ruolo ancora incerto si è determinata una serie di situazioni che rapidamente riassumo una delle quali è una legge regionale che ha inventato la figura da me voluta di alto commissario, perché la parola alto commissario generalmente si lega al male, alto commissario per la mafia, alto commissario per la nulla, che ha i poteri dell'assessore solo per l'edificio che è questo. La legge regionale mi pare all'epoca del Presidente Cuffaro, che è infatti dimissionario per fatti di mafia nella visione criminale della Sicilia, fu votata e quell'alto commissario ero io, per cui sono passato attraverso diverse fasi arrivando a un ruolo che peraltro è stato costante di presenza e tenacia per arrivare alla fine di questa impresa che sarà conclusa nell'anno del 150esimo dell'Unità d'Italia, che è un altro fatto politico e storico rilevante. Iniziò quindi tutto con un conflitto sostanziale tra il progetto Meli e la mia visione, che era una visione di una copertura leggera. Trattammo un po' male Meli, che ci vide come degli antagonisti, però Meli alla fine vide anche che c'era qualcosa di buono nel discutere, anche senza un concorso. Quindi qui non c'è stato un concorso, ma sono arrivati. Il primo che ho fatto venire qui, come ho raccontato, è un grande architetto che aveva lavorato in Australia al Museo di Melbourne, vincendo un concorso che si chiama Bellini, il quale, vista la mia nomina, si offerse di venire a vedere. Nessun altro architetto lo ha pensato. L'Italia e il mondo sono privi di architetti che hanno avuto attenzione per il Piazza Meli. Per cui mi sembrava di dover privilegiare questo, come dire, così spontaneo gesto di Bellini. E Bellini propose una vela. L'idea sua era una vela. La vela divenne, siamo in Sicilia, una cupola. E la cupola piace moltissimo a un sorriso che mi ha asciutto, il quale, per realizzare la cupola, fece carte false e carte vere e mi introdusse alla personalità di un RUP, responsabile di unico procedimento, nella figura di Rosa Oliva che è con noi, la quale, nella presunzione del sovrintendente, sarebbe dovuta essere una sua collaboratrice. Invece era intimamente, ma non sul piano ideologico, sua nemica perché non voleva la cupola. Per cui un giorno, e neanche io la volevo, ma mi dicevano ricattandomi, se non la facciamo subito perdiamo i soldi europei. C'erano 25 milioni del finanziamento europeo che rischiavano di evaporare in un POR che aveva una sua scadenza. Oggi la scadenza è stata spostata in avanti, fortunatamente, ma insomma in quell'urgenza sembrava o la cupola o niente. Nel paese di Mazzarino la dottoressa Oliva mi chiarì, dice guarda io faccio il volentieri il RUP, ma a me la cupola non piace, dico non lo dica a me, ma mi dicono che se non la facciamo perdiamo i dannali. Non è vero, naturalmente è cominciata questa storia che ha visto poi cadere lungo il percorso l'architetto Canali che era venuto per fare un progetto non simile a questo, ma insomma con qualche sua intelligenza, la cupola fortunatamente poi piena di vetri sarebbero stati alta, 60 metri, sarebbe stato impossibile pulirla, è caduta da sola, il sovrintendente è stato allontanato anche grazie a una mia sollecitazione, quindi mi odia, adesso è finito credo che il caldo a girone, ma comunque tutto questo ha fatto sì che noi partiti da una contraposizione con Meli siamo tornati a Meli, dicendo allora il progetto lo fa l'Istituto del Restauro regionale, con qualche accorgimento e quindi alcune idee guida che sono nei cataloghi che forse avrete visto, che io avevo in mente non essendo architetto, ho pensato di affidarle a un allievo di quel mio amico, mi sono dimenticato il doppio cognome, Dezzi Bardeschi, il quale Dezzi Bardeschi è un fantasista convinto di essere e odia il suo allievo, però il suo allievo è più sobrio di lui e si chiama Giona Tarizzi e quindi con la maledizione che Dezzi Bardeschi e di tutti gli allievi del Ministri che è l'autore di questi cattafalchi immondi, che però cominciano ad avere 50 anni e quindi volevano loro vincolarli per impedire che noi li togliessimo, con la maledizione di tutti abbiamo chiesto a Giona Tarizzi di darci alcune indicazioni che corrispondessero a quello che avevo in mente sui materiali, lui aveva lavorato al Museo Ghetti, aveva fatto e ha lavorato e mi pare che questa presenza di persona sensibile sia stata perfettamente assorbita e sia stata compatibile con il Meli, poi non l'ha vista su un'altra potenza, ma hanno cominciato a dialogare, quindi sono stati eliminati i vetri, i vetri fitosensibili, quello che era nel progetto Meli, e quindi si è partiti in una solidarietà straordinaria di visione e poi di suggerimenti, sui gestioni, per cui con le persone che hanno avuto la delega al progetto e le suggestioni e le indicazioni di Giona Tarizzi si è arrivati a quello che vedete qua dietro, che con una certa lentezza però è stata elaborata in sostituzione di quello che è. Quindi questo è il panorama di una vicenda che è durata 10 anni e in cui forse se io avesse avuto un ruolo politico in senso specifico se la sarei via come gli assessori che hanno preceduto Armao, sono stati 4-5 e come capita poi con gli avvicinamenti politici, questo il ruolo tecnico mi ha consentito di fare il padrino di questa impresa per circa 10 anni e arrivare a portarla a compimento nell'imminenza del 150esimo dell'Unità d'Italia. Ciò che a me prema soprattutto è smettere di vedere questa immonda ferraglia di plastica, vetro e metallo, avendo però dell'idea del Minissi mantenuto il principio della ricostruzione dei volumi, sia pure con diversi materiali, e quello fondamentale per la visione, che è un'idea per cui non abbiamo tradito il Minissi, che sono le passerelle, che avrete osservato che l'alzato di questi spazi è superiore a ciò che era sopravvissuto, c'era un mezzo metro di pietre, sono state con delle pietre rustiche che si possono ben distinguere, portati a oltre un metro e mezzo, due metri di altezza i muri, con un effetto poi mimetico rispetto al resto della struttura, per consentire che una passerella arrivi sul colmo di queste pareti e ti consenta di vedere con la possibile migliore visione rispetto ad un museo del Bardo che li fa diventare arazzi, ti rifaccia vedere dall'alto verso il basso. L'idea del Minissi in questo era la cosa più buona del suo progetto ed è stata totalmente preservata. Vedete adesso però legno, rame, tutto quello che nel percorso di questa vastissima impresa di quasi 4 mila metri quadri di mosaici, fino all'admirabile basilica che non ha mosaici ma un intarsio di marmi straordinario che in parte è recuperato anche con il contributo di Guirubaldo e con una copertura complessa ma molto semplificata rispetto alla ferraglia, tutto questo dovrebbe e dovrà essere poi compiuto. Per quello che riguarda la parte architettonica che era quella che determinava il maggiore contrasto rispetto all'amenità e alla belletta del luogo, possiamo immaginare che questa villa sia stata di un signore che era un po' come Berlusconi all'epoca nostra, la Certosa, quindi una cosa molto un po' anche da nouveau riche e quindi l'idea è che tu perda completamente l'amenità, cioè vedi in un posto di cui vedi i mosaici ma è sgradevolissima la ferraglia e poi non ci sono i giardini, per questo abbiamo chiamato il dottor Reverdini e non ci sia la possibilità di sentire un'atmosfera come quella della Villa dei Gaffili ricostruita a Malibu e in sostanza qualche cosa che dovrà avere anche acque e verde, mi è sembrato che fosse l'elemento più sgradevole e funerario di questa copertura e di questo allestimento e quindi io sono stato molto attratto dalla parte che è più lontano alla mia competenza specifica, anche più storico-artistica che è quella delle coperture, ma è evidente che il problema esisteva anche per il restauro dei mosaici e lì...